Buongiorno a tutti, oggi parliamo con il professor Dario Ianes, già docente di pedagogia dell'inclusione presso l'Università di Bolzano. Parliamo con lui perché in queste ultime settimane è venuto di nuovo fuori un problema molto importante, molto interessante, su cui in tanti dibattono, cioè la questione della classe di concorso per il sostegno. Ci sono alcune associazioni che di nuovo ritornano su questo argomento, ritengono che la classe di concorso sia una delle strade da percorrere per migliorare i processi di inclusione degli alunni con disabilità, ma ne parliamo con il professor Ianes che appunto su questo ha speso molto del suo tempo, molte delle sue parole e anche molti dei suoi lavori scientifici. Senti Ianes, ma davvero la classe di concorso per il sostegno potrebbe migliorare i processi di inclusione? Per esempio, come dicono in molti, potrebbe garantire anche una maggior continuità del personale? Dunque, a mio avviso no, i rischi e i pericoli sono maggiori dei presunti vantaggi. C'è un rischio e un pericolo molto più reale di quello dei presunti vantaggi che è quello della delega. Noi sappiamo benissimo che soprattutto nella secondaria, nel primo e secondo grado, si attivano purtroppo dei meccanismi di delega da parte dei insegnanti curricolari a quelli cosiddetti di sostegno. Allora, se ci fosse addirittura una separazione di carriera in maniera netta, quindi forte, che diventa una scelta per quasi tutta la vita professionale, è evidente che si rinforza ancora di più la divisione tra chi si occupa della classe e chi si occupa del ragazzino o della ragazzina con disabilità. Per cui questo fenomeno che i fautori, diciamo, della separazione delle carriere minimizzano, nel senso che da un lato lo sanno perfettamente, però dall'altro lato minimizzano il rischio, mentre in realtà quando si creano delle strutture separate, come l'aula di sostegno oppure una struttura separata, ma quando creano una struttura, una carriera addirittura, che uno intraprende la carriera, la sua abilitazione sul sostegno e poi uscire da lì per entrare dopo nella cattedra vuol dire chiaramente una nuova abilitazione, vuol dire tutto un altro percorso. È chiaro che si creano strutture separate e separanti, io dico, ma si crea un altro pericolo ulteriore, il fatto che ci sia minore attrattiva nel fare il sostegno, perché vederlo proprio come una scelta vocazionale per tutta la propria carriera, io credo sia molto più impegnativo, molto più problematico, per cui avremo ulteriori difficoltà e sappiamo che le difficoltà adesso nel specializzare le future generazioni di sostegno sono evidenti, perché per esempio in alcune località d'Italia tu hai meno candidati di quanti sono, cioè allora a quel punto lì hai anche una curva diciamo di disaffezione a questo ruolo, che secondo me accelererà ancora di più se lo fai diventare un ruolo diciamo molto più lungo, molto come dire, più impegnativo. C'è chi sostiene che la classe di concorso per il sostegno significherebbe però anche una maggiore preparazione, una maggior professionalità dell'insegnante di sostegno. Tu pensi che questo sia vero? Quello dipende sempre dalla specializzazione che tu li fai, nel senso che anche adesso c'è un corso di specializzazione che sono 60 crediti, dopo c'è ancora pende, diciamo, pende, questo per tutti gli ordini di scuola. Pende ancora tutta quella questione prevista dal decreto 66 per l'infanzia e la primaria degli ulteriori 60 crediti da acquisire le didattiche inclusive prima dei 60 e specializzazione. però lì è tutto fermo, nel senso che lì chiaramente c'è un buco nero. Io sono convinto che questo tentativo, diciamo, di creare classi di concorso sia una specie di pezza che metti su un buco, che è un buco della non specializzazione degli incarichi dati, diciamo, senza titolo, dei trasferimenti e anche in parte, piccola parte, del passaggio sulla cattedra. Il passaggio sulla cattedra presenta dei dati molto ballerini, dei dati molto ballerini perché alcuni parlano di 20.000 richieste e di 15.000 accolte, altri parlano di 5.000, altri per dire, dicono, ma ce n'è pochissimi, no? Ce n'è pochissimi, non è questo il problema del turnover e della mancata continuità, non è perché passa sulla classe, ma è perché il meccanismo del reclutamento così frammentato, così precarizzato, mi fa la girandola degli insegnanti, tra cui la gran parte al nord, tu pensa al nord, cioè 40 e più per cento senza titolo, cioè chiaro che mette in moto una girandola. Gli stessi posti messi a disposizione degli Atenei, cioè degli squilibri territoriali, i pazzeschi, no? 500 per dire quest'ultimo ciclo, 500 al nord, 500 in Piemonte, per dire 5.000 in tutta la regione Sicilia, per cui è evidente che si crea poi dei meccanismi di travaso che sono assolutamente problematici. D'altra parte c'è anche chi sostiene che la continuità vada ricercata non soltanto nell'insegnante di sostegno, ma anzi nell'intero team di classe e questo credo che sia un aspetto molto importante che mi pare che con la classe di concorso verrebbe persino un po' come dire messo in secondo piano, cioè si pensa solo all'insegnante di sostegno ma non si pensa che la continuità forse è un'altra cosa, è così? Ma assolutamente perché l'inclusione viene fatta da tutti i docenti, è evidente che non si può ridurre ad alcuni e più si rinforza la figura di alcuni più si destruttura questa visione collegiale di corresponsabilità e di corresponsabilizzazione di tutti, no? È curioso che a distanza di quasi 50 anni dalla legge 517 però ci ritroviamo sempre un po' a tornare su questo problema del team docente e della collegialità, come mai secondo te in 50 anni non siamo riusciti a mettere questo punto fermo in materia di inclusione? Questa è una domanda storica Reginaldo che dovrebbe coinvolgere rivolgere principalmente chi ha più memoria storica, ma tu ti ricordi che la 517 prevede non solo gli incidenti specializzati ma prevede il servizio socio-psicopedagogico nella scuola. Allora io penso al di là dei motivi che hanno bloccato quel tipo di intervento e hanno messo le energie tutte nel sostegno arrivando a più di 200 mila, ma mi chiedo cosa sarebbe stata la scuola italiana e l'inclusione e l'integrazione se 50 anni fa fossero partiti e costituiti effettivamente dell'equip di tipo socio-psicopedagogico a supporto di tutto il corpo docente. E sarebbe un esperimento interessante per metà Italia con i studenti di sostegno e senza, metà invece con l'equip socio-psicopedagogico senza i studenti di sostegno. Fare queste due cose, cioè impossibile ovviamente, però io credo che un'equip, un servizio strutturato, interno, forte, che non deve dipendere diciamo dalle neuropsichiatrie che hanno già tutti i loro problemi, ma interno alla scuola specifico che dia sistematicamente competenze, supervisione, supporto, materiali a tutti i docenti, a tutti i docenti, nessuno escluso, per cui alla normalità dei docenti, io credo che, come dire, avrebbe decine di anni, una dopo l'altra, avrebbe forse creato una situazione differente, che non questa focalizzazione così forte sull'unica gamba che è inizionante, nel senso di sostegno, con tutto quello che sai rispetto anche alle ricorse al TAR delle famiglie per avere più ore, c'è l'ossessione delle ore, insomma, che è un punto, questo è un sintomo anche del fatto che è l'unico appiglio, no? Ti puoi appigliare solo a quello, allora lo voglio superformato, continuo, blindato, in una classe di concorso, cioè, perché è l'unico appiglio a cui posso prendere, mentre appigli devono essere tutti appigli, no? E allora, sì. Senti, qualche anno fa tu e altri tuoi collaboratori avevate svolto una indagine molto interessante, proprio su questa questione della classe di concorso, cioè, avete chiesto a un po' di soggetti, ma quanto vi piace la classe di concorso? E a questa domanda avevano risposto genitori, insegnanti e così via. E quale risultato avevate ottenuto voi da questo sondaggio? Ma risultava chiaramente che la separazione delle carriere, chiamiamola così, era vista negativamente, in larga maggioranza, da parte degli insegnanti, sia curricolari che di sostegno, mentre la situazione era diversa rispetto alle famiglie, perché le famiglie la vivevano con maggior favore, nel senso che vedevano in questo un surplus di garanzia di continuità, ecco, e di stabilità. Questo era la differente percezione, questo era un dato, sì. Adesso rifare questa indagine magari porterebbe a dei risultati differenti, però allora ti parlo di cinque o sei anni fa, ecco, più o meno. Quando si è cominciato a discutere di questa cosa? Senti, ma allora abbiamo visto che da questa indagine che avete fatto i genitori sono su una posizione molto diversa da quella degli insegnanti, ma secondo te perché e soprattutto cosa si può fare per interloquire con i genitori, per parlare con i genitori e per comprendere insieme con loro, diciamo, le loro preoccupazioni, perché certamente le preoccupazioni dei genitori che hanno l'unico con disabilità vanno comprese, vanno accettate, vanno accolte, non si può dire sono preoccupazioni sciocche, sono preoccupazioni reali, ecco, quindi come si possono gestire concretamente queste preoccupazioni secondo te? Guarda, hai proprio centrato il punto, il punto è riconoscerle e non considerarle, diciamo, come dire, capricci, cose inopportune, riconoscerle, comprenderle e per comprenderle bisogna parlare, bisogna parlare lungo, continuamente e non solo sporadicamente. Per cui il tema del dialogo, dell'accompagnamento, insomma, di una famiglia che comincia proprio alla scuola dell'infanzia, io credo che deve essere fatto sul tema del risultato, del fine piuttosto che del mezzo. Cioè, quando io parlo con le famiglie, ci parlo spesso, dico, ma scusate, voi perché lo mandate a scuola al vostro figlio o la vostra figlia. Perché? Perché impari un sacco di cose, ok, benissimo, quali, no? Tante cose, ma perché le impari con i compagni, no? Non in uno stanzino, certo, perché senta di appartenere, no? Ad un gruppo, certo. Tutte queste cose. Questo è l'importante, questo è il fine. Il mezzo, cioè 12 ore di sostegno, 8 di educatore, no? Questi sono i mezzi, non sono i fini. Il fine è l'apprendimento, la partecipazione e l'appartenenza. Questo è il vero fine. I mezzi, i mezzi sono azioni che l'istituzione fa, insieme facciamo, per arrivare lì. Ma dobbiamo misurarci sul risultato, non sul mezzo. Ma se una scuola fa un'integrazione meravigliosa con il tuo figlio, senza usare un'ora di sostegno, ma perché tutti, cioè c'è tutto uno, ma qual è il problema? Cioè l'importante è il risultato, no? Cioè il fine è tutti i tiponi. Allora ci misuriamo sul fine. Allora ragioniamo sui fini. Allora il pay, il glo, decidiamo insieme qual è, no? Il risultato a cui puntiamo tutti, no? Poi se ci metti il sostegno alle prime ore, le seconde, le terze, o chi fa, cioè questo è dal mio punto di vista irrilevante, nel senso che dobbiamo misurarci, poi giustamente dobbiamo misurarci su degli obiettivi e dei fini che abbiamo concordato. Senti, la... spostiamoci un attimo. L'ipotesi delle cosiddette cattedramiste, tu come la vedi? Ma la vedo benissimo la cattedramista. La cattedramista io la vedrei di default su ogni posto di sostegno, perché così valorizzi di più la figura, integri di più la figura del sostegno con i articolari, no? Sì, ci sarebbe la rappresentazione sociale anche meno di serie B del sostegno, perché comunque anche delle, no? Per cui non... cioè, secondo me sarebbe un passo nella direzione giusta, no? Non ancora l'ideale, diciamo, evolutivo, però un passo nella direzione giusta sicuramente. Grazie a Dario Ianes per questa bella chiacchierata. Abbiamo cercato di mettere a fuoco alcuni problemi, ce ne sono ancora tanti altri. Il percorso dell'inclusione è lungo, appunto, è iniziato 50 anni fa e sicuramente non è ancora concluso. Diciamo che ci sono alti e bassi. Ovviamente ci auguriamo tutti che questo percorso prosegua e che ci dia sempre risultati migliori. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a te.